Il candidato 5 Stelle a Chieti inizia a far sentire la sua voce e come da tradizione grillina lo fa cercando tra le carte. Ottavio Argenio balza oggi alle cronache per aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti in fatto di rifiuti. Accusa infatti di premio di aver speso 2 milioni di euro come extra lavori alla società Formula Ambiente. I finanziamenti europei ci sono, ci saranno e riteniamo che in ogni caso li dovevano sfruttare in maniera migliore. Si poteva accedere a fondi diversi, a più stanziamenti e questo non è stato fatto. Riteniamo che il modo di gestire la città e i risultati che sono stati conseguiti siano sotto gli occhi di tutti. Non credo di essere l'unico cittadino insoddisfatto di come è stata gestita Chieti in questi ultimi 5 anni. Ovviamente quello che chiediamo e quello a cui puntiamo è di creare noi un'amministrazione più trasparente che renda comunque più partecipi i cittadini e li renda appunto sostanzialmente più informati di come deve essere correttamente gestita una città come Chieti. Se da un lato il grillino si concentra sulla vigilanza dell'amministrazione di premio dall'altro inizia a parlare di quello che sarà il programma elettorale che titola sui manifesti e riaccendiamo Chieti. Il primo obiettivo è appunto quello di ottenere un'amministrazione trasparente e di far partecipare appunto tutti quanti i cittadini attraverso gli strumenti di democrazia diretta all'amministrazione della città, attraverso proposte concrete, attraverso consigli e suggerimenti. I primi riscontri che stiamo avendo riguardano ad esempio la creazione di nuove aree pedonali in città. Il problema del traffico è un problema che qui a Chieti sentono ovviamente tutti quanti nessuno ha cercato mai di risolverlo in maniera intelligente, speriamo di riuscirci.